Vi ringrazio, vi ringrazio io per la disponibilità che date, sappiamo benissimo che sono due giorni molto molto faticosi, spero che la fatica sia ricompensata anche da un po' di divertimento e dal fatto di essere in una delle più belle città d'Italia. Sì, allora, nell'occasione noi vi lasciamo il mazzo di carte, il nostro è un gioco di carte, è un gioco di carte tradizionale della nostra zona, il mazzo di carte anche se è prodotto da una ditta famosa, Masenghini Bergamo adesso dal negro, è molto difficile trovarlo perché essendo un gioco tradizionale le carte si trovano solo nella nostra zona, noi siamo di Montori al Vomano, provincia di Teramo, alle falde del Gran Sasso d'Italia, quindi è molto difficile trovare il mazzo di carte, quindi noi ti regaliamo il mazzo con cui giocare, vi regaliamo il regolamento che noi abbiamo fatto appositamente perché è un gioco antico, però non aveva nessun regolamento scritto, allora onde evitare che ognuno si facesse il regolamento a suo favore lì al momento, come meglio gli conveniva, abbiamo deciso di metterlo per iscritto. Vi doniamo una foto, una cartolina del nostro paese con le immagini più importanti, il nostro paese poi ha una cosa molto importante, la parte gastronomica, l'Abruzzo per la gastronomia è abbastanza conosciuto, questo è un libricino dove ci sono i migliori locali del nostro paese. Le ricette purtroppo non le diamo, devi venire da noi a mangiare. Vi regaliamo una confezione artistica fatta da un pittore fiorentino, il maestro Mauro Capitani, che riproduce le 40 carte, sono carte che riproducono gli originali, che sono degli acquerelli che abbiamo noi in una collezione permanente, in una mostra permanente a Montorio. E in più vi lasciamo un liquore della nostra zona appositamente etichettato con la nostra manifestazione, il nostro torneo che organizziamo. Dopo purtroppo basta, se vuoi qualcos'altro devi venire da noi e ti garantiamo che non te ne pentirai. Ti ringrazio, ti ringrazio molto per questo. Vedete quante cose si possono avere con un pezzetto di carta, a volte. Allora proseguiamo con l'elenco che è sparito. Continuiamo, non so se sono presenti i mariacci la plazza, forse sono ancora sul palco e anche le scavare al capriccio. C'è qualche rappresentante di Weweco Yotl? Un applauso. Grazie a voi per l'invito. Non è stato per niente faticoso, è molto divertente. Siamo molti contenti di stare con voi e speriamo non sia l'ultima volta. Che invidia per il suo italiano. Grazie. Grazie molte. Oplala, perdon, perdon, perdon. Sì? Sì. Sì. Sì, sono un amministratore della sua cultura e del suo paese. Grazie, grazie, grazie. Opa, scusa. Grazie mille. Ah, la malietta? Sì, sì. Grazie. Il gioco delle noci. Il gioco delle noci. Devono ancora mangiare il gioco delle noci. via, passiamo. Allora, chi c'è? Pattuglia di Pastellessa. Sono partiti, tornati in... Oh, i nostri amici piemontesi delle Langhe. Via. E si prepara il kendama, se c'è. Kendama? No. Sì. Allora, grazie. Le billet è un gioco di birilli esclusivamente femminile. Ah, no, adesso va in fondo la fila. In fondo la fila. Prego. Allora, un ringraziamento alle donne di Farigliano, che per la quinta, sesta, settima, qualche volta, insomma, sono venuti a farci compagnia. Grazie a voi per l'invito, speriamo di rivederci l'anno prossimo. Vediamo, vediamo. Non avete avuto la pandemia quest'anno? C'è qualcuno che la sta facendo. Ma qualcuno ha preferito il divertimento di Verona. Grazie mille. Grazie, grazie. Bene, allora, siccome una signora, il gioco delle noci. Gioco al femminile direttamente da Monte Rosso al mare, un luogo straordinario, che fanno anche delle acciughe buonissime. Le comprano in Portogallo, però poi le proponete come cinque terre. No, grazie. Anche il gioco delle noci, un gioco al femminile, c'era tutto un settore quest'anno che riguardava questa metodologia di gioco. Sì, infatti è un gioco antico, giocato soprattutto da donne. Si parte con un piccolo gruzzolo di noci e poi si cerca di portarne a casa anche di più. Per fare il pesto. No, salsa di noci o sono buone anche le prime noci. In questo periodo soprattutto si gioca, a settembre. Grazie mille. Alla prossima. Gli amici del Kendama, perché questo festival racconta anche di come le tradizioni ludiche si possono incontrare. Quindi anche è un incontro di generazioni. Vediamo e ringraziamo il giocatore di Kendama. Paolo. Non ho mai capito come si possa giocare, si possa riuscire a fare cose di questo tipo. Se volete provare, guardate. Ho fame un nervoso, porca miseria. Ok, grazie mille. Aspetta. Intanto chiediamo agli amici del pallone col bracciale. Se ci sono, se non sono già andati, pallone col bracciale. Eccoli qui, un applauso. Uno dei giochi della tradizione italiana, storica, sferistica. Direttamente da Treia, dalle Marche. E questo è stato un confronto quest'anno tra la cultura delle palle messicane, della sferistica messicana con le Ullame italiane, Ullame messicane e Ullame italiane. Quindi pallone con bracciale. Grazie ancora, grazie. Allora, l'assessore allo sport di questa magnifica cittadina in provincia di Macerata. Sì, noi siamo l'unica rappresentante delle Marche ad aver partecipato quest'anno al Tocatì. Abbiamo il gioco del pallone col bracciale, che è uno sport ottocentesco cantato anche dal poeta Giacomo Leopardi in un'ode a un giocatore di pallone col bracciale in omaggio a Carlo Didimi, anche gli treiese. Noi abbiamo la disfida... Didimi. Noi abbiamo la disfida del bracciale la prima domenica di agosto e da quest'anno la FIPAP, Federazione Italiana Pallapugno Sport Sferici ha ripreso anche una vecchia tradizione che è il campionato nazionale italiano di gioco del pallone col bracciale cui hanno partecipato Faenza e Sant'Arcangelo di Romagna per l'Emilia Chiusi e Torrida di Siena per la Toscana Noi e Mondolfo per le Marche. Grazie, arrivederci all'anno prossimo. Grazie al pallone col bracciale La dama si prepari No, scusate, Panforte Panforte, meraviglioso Grazie mille, grazie, grazie, grazie No, non parli col presidente di regolamento Direttamente dal Senese, da Pienza Scatta un meccanismo diabolico quando si parla di regolamento Sì, il regolamento di gioco prevede delle regole, logicamente che prevedono il meccanismo di tiro tra i giocatori delle due squadre per arrivare al punteggio Ma al di là del regolamento poi che fine fa questo? E poi si mangia Uno degli obiettivi è anche questo Il torneo si svolge dal 26 al 30 di dicembre 32 squadre, circa 200 giocatori Eliminazione diretta Uno degli obiettivi appunto è quello sicuramente di divertirsi portare avanti le tradizioni storiche, locali e poi mangiare il Panforte Fantastico, grazie, grazie mille Chiamiamo un gioco molto antico La dama, gli amici della dama Ecco la signora Il circolo da mistico che dal primo toccatì dal primo toccatì quindi 12 anni con noi La dama, il circolo da mistico veronese Grazie mille No, grazie a tutti, è troppo bello Grazie, grazie, grazie Piastrelle Direttamente viaggiamo sull'Italia Emilia-Romagna Anzi, per l'esattezza Emilia Dall'Appennino-Modenese Dottor Bernardi Dottor Bernardi Dottor Bernardi Come va? Bene Va bene, va bene Ci ha portato dei sassi Ci ha portato dei sassi Questa è l'evoluzione del gioco Del primo attrezzo La pietra piatta Questo Allora, questi sono i giochi che noi usiamo che usavamo tanti anni fa che sono quelli di sasso che trovavamo lungo i fiumi Poi ci siamo evoluti come del resto tutti i giochi Questi sono per i grandi campionati italiani che facciamo assieme a tutti i giocatori d'Italia Questi invece sono per i bimbi per i bimbi delle scuole che li usiamo dove si possono usare nei campi di interabattuta Questi li abbiamo fatti per poterli usare nelle palestre delle scuole dove andiamo a fare i corsi di formazione per i giochi tradizionali in tutte le scuole dell'Emilia-Romagna e anche delle Marche dell'Umbria Quindi questa per me per noi è stata sono stati due giorni fantastici perché abbiamo avuto un afflusso indimenticabile quindi eravamo in sei non ci tenavamo dietro quindi grazie devo ringraziare il Tocatì che ha organizzato il suo Presidente che ormai ci conosciamo da tanti anni speriamo di continuare questa esperienza e colgo l'occasione per invitarti ufficialmente all'Ama Mocogno il 4 e 5 di ottobre dove c'è la festa e il parmigiano reggiano la si taglia la forma poi si mangia il parmigiano grazie 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 Remo grazie grazie per tutto grazie Remo Bernardi e grazie alla FIGEST che fa un lavoro enorme anche dal punto di vista della salvaguardia del gioco tradizionale ed ora chiamiamo i giocatori di basket Polisportiva Rialtese trucco da terra trucco da terra pochi scherti qua non si scherza col gioco tradizionale che basket trucco da terra direttamente direttamente dalla Liguria dalle colline grazie grazie ancora per la presenza vi siete divertiti la schiena come va? tutto bene tutto bene eh eh sono un po' stanchi eh ci hanno impegnato molto i ragazzini anche i genitori eh sì 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 i genitori sono peggio hanno perfino un po' bisticciato perché io sono primo io sono già 5 minuti ma comunque fa parte del gioco perché se no si bisticcia un po' in questi giochi ci vuole anche un po' di va bene grazie mille vi offro il nostro gioco ecco la palina ecco le bocce tantissimo tante grazie a tutti voi vi ringrazio noi è già la quinta volta che partecipiamo quindi siamo già ormai siete esperti siete esperti sapete come muovervi nella città grazie a tutti grazie ciao 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 ed ora oh grazie direttamente pesto sono noci peccato allora grazie mille grazie noci questa sera e adesso los soneros del teseggio a can los soneros dove sono gli amici stanno ancora suonando gregorio dove sono los soneros lì qua là dove sono ok allora aspettando los soneros eh questa è buona le plocce le plocce stanno ancora facendo giocare la città i messicani le plocce c'è le plocce prego le plocce le plocce le plocce le plocce allora grazie com'è andata benissimo descansa descansati si yucatan grazie mille grazie mille e le sono sono persone fantastiche abbiamo hanno tenuto la città in sospeso in sospeso per sia il giorno che la sera grazie mille grazie un applauso ha parlato direttamente direttamente nella sua lingua il messico 68 lingua autòctone le ringraziamo di corazone che ci hanno fatto in cuenta per questo evento ademà vi invito di meraviglia per che conoscano o vanno a conoscere la settima meraviglia del mondo a nome dei miei jugatori le plocce e a nome dei jugatori del valero che il dia di oggi rompì un record mondial rompì un record nazionale e establecì un record mondial del valero hizo 1058 capirucos per noi è un record mondial che di ugual forma siamo molto agradecidos e a nome dei jugatori del valero e del messlepol che le entregamo un valero di ricordo per todo su equipo di lavoro grazie 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 molto vi ringraziamo anche vi ringraziamo anche per l'attesa però per noi è un momento importante le comunità si ritrovano non è solo un omaggio ma è un modo per ritrovarsi dopo lo possiamo dire due giorni di grande impegno e come dicono i messicani sono stan cansati molto cansati e quindi anche trovarsi un momento per noi è un momento importante perché abbiamo fatto insieme il festival adesso lascio dire a Letizia la pronuncia esatta di questo gruppo e Camalot e Camalot eccoci qua grazie Angele Camalot io voglio ringrazio a la federazione e agli organizzatori del Tocati perché nos invitarono per questo per questo gioco del Eje Camalot è un gioco di Df di la parte di Milpalta e la verità anche a la Ana Claudia che è la presidenta della asociazione del Df grazie 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 bene siccome continuiamo a raccontare un Messico che ha tante culture e quanti tanti idiomi tante lingue io chiamo Letizia che farei anche un applauso perché Letizia ha portato il Messico insieme a noi e quindi ecco Letizia che si nasconde beh se il Messico è qui grazie anche a lei e a Simona dove è Simona e quindi adesso ci pronuncia esattamente questo gruppo ci siamo te malacate messicani te malacate grazie grazie mille grazie mille puoi dire due parole le culture ludiche tradizionali italiane ed ora passiamo perdon 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 ah qui Cornole le Cornole eccolo qui rappresentante associazioni Aquile di Udine grazie mille un altro pezzo di Italia Ludica che è venuto a fare il festival questa è una miniatura miniatura in scala del nostro gioco che abbiamo portato qui io consiglio questo di metterlo in nella postazione del caffè in ufficio per i pochi momenti di pausa e da un paio di metri cercare di fare centro nelle pause caffè e lì c'è mais dentro da cui il nome Cornole scusi un attimo avevo un piccolo dubbio questo gioco si fa con il mais questo gioco ha origini molto antiche risale a allora la narrativa narra 1350 circa in Germania non è un gioco prettamente tradizionale friulano da dove vengo io solo che il nostro gruppo io in particolare quando ho scoperto questo gioco ho chiamato subito i miei amici e ho iniziato subito a divulgare nella mia zona questo gioco perché mi ha appassionato così tanto da assolutamente voler dilagare questo gioco grazie ma la mia domanda era 1355 ma il mais è arrivato in Europa un po' dopo è vero è vero infatti all'inizio veniva giocato dai bambini con i sassi infatti l'evoluzione del gioco è stato che un signore vedendo dei bambini tirare dei sassi in un buco si preoccupava per la loro incolumità e allora hanno inventato questo gioco e c'era del grano all'inizio poi con la colonizzazione è arrivato il mais e allora il mais abbondava di più del grano e hanno messo il mais all'interno dei sacchetti spiegato no, sentono aver traduzito hasta ora sono i miei amici di Cornole e ha portato la riproduzione del gioco per noi che si può giocare come stava dicendo e la pausa per tomare un caffè e nada damos las gracias per la sua presenza ok adesso chiamiamo i nostri amici del Go se ci sono Go eccoli qua quindi in realtà un gioco che arriva dall'Oriente ma è un gioco come tanti giochi che poi si è reso internazionale però al finale arrivo a essere internazionale e quindi qui a rappresentare anche un'altra cultura l'associazione del Go ha arrivato per trasmettere un'altra cultura damos las gracias e un applauso a los amigos del Go grazie questo gioco ha origine in Asia circa 4.000 anni fa è uno dei tre giochi più antichi al mondo è riuscito a salvarsi per avere una quantità molto piccola di regole dalle quali però si può sviluppare una difficoltà di gioco che è assolutamente ancora non raggiungibile per un computer in questo gioco il gioco ha talmente tante possibilità che il giocatore umano ancora riesce a battere il computer tiene muchas modalidades se il giocatore può ganare contro l'ordinatore il gioco è molto semplice si gioca con pedine bianche e nere per cui si può usare anche materiali molto poveri è molto senzillato e si gioca con piccole balle blanche e nere e con materiali naturali per cui chiunque può trovare in qualsiasi parte del mondo piccoli gruppi di giocatori di questo gioco sono 4.000 anni che giochiamo prima o poi giocherà tutto il mondo per questo si può incontrare tutto il mondo sono 4.000 anni che giociamo quindi lo più più possibile giocare a tutto il mondo grazie per avere 4.000 anni ti porti bene lo llevas molto bene 4.000 anni ciclotappo 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 la cultura ludica della Liguria ma non solo perché ciclotappo in realtà è un gioco ormai che ha invaso l'Italia e quindi sentiamo che cosa ci viene a raccontare allora innanzitutto grazie grazie sempre e ci rivediamo senz'altro il prossimo anno per prima grazie si nos vemos sicuramente l'anno che viene anche quest'anno abbiamo avuto un'affluenza di bambini e con i genitori eccezionale ieri siamo riusciti a fare la decima tappa del campionato italiano abbiamo avuto un nuovo campione italiano un astigiano e quindi il Tocatì diventa sempre più importante per noi questo anno ha passato molti pubblici e otteniamo la decima tappa del campionato italiano del ciclotappo esatto e volevamo darvi ovviamente una targa che potete appendere sul muro se volete o mettere in un cassetto non c'è problema soprattutto quest'anno visto che il nostro gioco è molto povero è un gioco di riciclo il gioco è molto povere con materiali di riciclo è un tappo di bottiglia che a corona che normalmente si butterebbe via e regalarvela sarebbe stato forse un po' troppo poco e abbiamo pensato a una pista per poter giocare a casa o nel ufficio davanti alla macchinetta del caffè grazie grazie a voi applauso grazie 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 mille bene un'altra storia ludica otra storia ludica e a questo punto abbiamo il carrom lo sonico del carrom che è un gioco anche questo potremmo definire ormai glocale cioè globale e locale un gioco che ha origine sicuramente orientale lo giocano tantissimo origine orientale lo juegan mucissimo nel Sri Lanka India Sri Lanka India Thailandia e anche le comunità che vivono qui le comunità che vivono in Italia portano la propria tradizione ludica questa è cultura di integrazione la comunità italiana lo curano mucissimo e questo significa cultura e integrazione volevo ringraziare un attimo anche l'associazione dell'AGA perché praticamente dandoci la possibilità di partecipare al Tocatì ha fatto sì che la nostra comunità ludica qua a Verona negli anni è cresciuta ed è passata praticamente al primo posto a livello nazionale contando quasi un centinaio di iscritti voglio darle grazie all'associazione Juegos Antigos perché grazie alla partecipazione nel festival e la comunità di Verona ha lograto a tenere moltissimi rappresentanti sia essere la prima in Italia con 100 persone grazie a voi grazie grazie e ora abbiamo le archeoneute si rispetta la fila si rispetta le regole eccoci qua le archeoneute sono in realtà delle archeologhe che hanno fatto un lavoro molto importante e stanno facendo sul tema del gioco attraverso il gioco conoscere anche le antiche civiltà attraverso il gioco conoscere le antiche comunità noi siamo nati come associazione cinque anni fa e questa è la quinta edizione del Tocati per cui praticamente c'è un'evoluzione un tempo sì cinque anni fa ed è stata una delle prime iniziative a cui abbiamo preso parte come associazione quella del Tocati quindi da allora in avanti insomma abbiamo sviluppato un po' di cose tra cui un po' di didattica nelle scuole grazie ai giochi che abbiamo poi in realtà proposto per le prime volte qui al Tocati per cui grazie perché ci date sempre la possibilità di metterci alla prova e provare insomma pubblici di adulti e di bambini basta solo questo grazie mille grazie a te la situazione ha nascito a 65 anni e nel stesso momento ha partecipato al festival e dà la grazia per il lavoro e ciò grazie ancora ed ora grazie patolli e giochi di carte patolli e quei eccoci qua bene un applauso anche a loro hanno fatto moltissimo sgueros nel festival non solamente il patolli non stiamo trovando ovviamente la targa d'omaggio l'abbiamo trovata colonna abbiamo un altro gruppo ovviamente colonna che lavora sul tema della divulgazione esatto anche noi portiamo i giochi nelle scuole per fare didattica ci occupiamo prima di conoscere l'associazione giochi antichi anche noi ci occupavamo di giochi antichi prima del 1500 anteriore al 1500 ma proprio per questa occasione ne abbiamo studiati alcuni da portare oltre appunto al patolli un bellissimo percorso sull'origine dei giochi di carte che abbiamo portato che è piaciuto molto alle persone che sono arrivate siamo molto contenti di aver partecipato è una bellissima città non abbiamo avuto tempo per visitarla purtroppo perché c'era sempre una marea di gente non riuscivamo a staccarci speriamo di tornare ancora è stato comunque bellissimo quindi grazie di tutto è una associazione che ha studiato sui giochi antichi di prima del 1500 e ha detto che non ha visto la città però ha aprovechato molto per la gente che stava in la plaza grazie bene allora Bottega di Orfeo Bottega di Orfeo una realtà veronese una realtà de Verona che lavora sempre nell'ambito educativo che trabaja sempre nell'ambito dell'educazione di didattica che con noi ci accompagna da qualche anno e che cerca di recuperare anche le vecchie canzoni le vecchie filastroche della tradizione veronese che collaborava con nosotros desde hace muchos años si intenta trasmitire e reinventare i musici dell'antiguità della tradizione veronese sì io volevo ringraziare l'associazione AGA che ci ha invitato anche quest'anno a portare questo gruppo di anziani che sono la memoria storica viva di queste filastroche per bambini loro ci tengono moltissimo a venire qua perché è un momento di festa per loro vedere tutti questi bambini interessati a queste vecchie canzoni alcune anche antiche per cui per noi è davvero una festa e ringraziamo molto di questo invito grazie ancora grazie a tutti voglio dar le grazie perché ha un gruppo di persone adulte e è molto interessante lo che hanno fatto di integrazione tra loro e i i e i è molto interessante il lavoro che hanno fatto perché è un lavoro intergenerazionale molto grande grazie tirolastico direttamente dalla Sardegna la isla desde la isla Sardegna ci sono tirolastico sì sì eccoli qua la tradizione come si dice in messicano questo come si chiama come si chiama sì allora ovviamente ringraziamo l'associazione AGA associazione giochi antichi di Verona che ci ha consentito per il secondo anno di partecipare a questa magnifica e meravigliosa manifestazione ci ha consentito per il secondo anno di godere della grande affluenza e della marea di bambini che hanno partecipato ai nostri giochi grazie ancora speriamo di poterci rincontrare un'altra volta l'anno vent'oro grazie è il secondo anno che partecipano nel festival e dalla Sgasa perché la gente è sempre molto amabile e c'è molta gente e è interessante incontrarla in queste plazas grazie bene ed ora parlando sempre di diffusione della cultura ludica parlando di diffusione della cultura ludica scusate devo offrire i nostri omaggi alla presidente dell'AGA offriamo due magliette che simboleggiano gli otto rioni della nostra comunità che svolge ogni anno un torneo un confronto sportivo amatoriale all'interno della nostra comunità che arriva dal medio campedano e si chiama San Luri ovviamente portiamo i saluti anche da parte della nostra amministrazione locale e ci sono dispiaciuti per non poter essere venuti quest'anno ma comunque salutano spero di potervi incontrare presto se non l'anno prossimo grazie due magliette saluti della municipalità di San Luri della Sardinia e da ricordo si le disculpan perché non stanno qui allora un piatto della Sardinia alcune brochure che parlano della nostra storia della nostra cultura di tradizione del centro del medio campedano e il torneo la brochure che contiene il calendario delle nostre iniziative degli sport che vengono fatti dal primo di settembre al 18 di ottobre e per concludere ovviamente il simbolo del nostro gioco tradizionale più importante di San Luri la fionda che speriamo la mettano così nella casa colombaria ricordo della nostra presenza del 2014 grazie presidente ancora per l'invito grazie a tutti i collaboratori della Tocati grazie grazie bene come vedete un omaggio alle comunità e anche un racconto di che cosa è stato questo festival per quattro giorni quindi stavo dicendo il CEMEA perché è un'altra associazione importante in ambito educativo internazionale è un'esperienza è un'esperienza che è nata in Francia e che ha trovato qui casa in Italia da tanti anni con una straordinaria realtà del CEMEA Italia nascita in Francia e ha arrivato a stare in Italia con CEMEA Italia e diamo la parola a Luciano Franceschi ma io solo per dire grazie a tutti quanti ci hanno dato una piazza intera e avevamo bisogno di spazio perché 70 persone legate al CEMEA da tutta Italia sono venute qua e abbiamo giocato riso abbiamo anche pianto perché abbiamo visto gente che era tanto che non vedevamo e quindi grazie di averci dato un'occasione anche per riunirci fra di noi l'altro grazie è a tutti gli insegnanti i genitori che si sono fermati a parlare di gioco in modo educativo perché quella è la situazione che ci piace insomma vedere il gioco nelle sue prospettive educative saluti a tutti grazie a te per la plaza che hanno tenuto perché hanno tenuto una verona plaza intera e incontrarla a tutti i membri della didattica di Verona e non solo e vi doy la grazia a tutti perché vi hanno visto nel festival grazie bene e questo festival racconta di storie che vengono dall'altra parte del mondo quasi cioè dal Messico in quest'anno non racconta solo storie di gioco ma racconta anche di altre espressioni della creatività umana non solamente juegos ma anche espressioni di altra parte della creatività umana e quindi chiamo la tradizione veronese dei suonatori di campane che è una tradizione straordinaria a livello nazionale e internazionale suonatori di campane suonatori di campane suonatori di campane sono ancora lì che suonano le campane hanno molto lavorato e quindi non hanno potuto venire se disculpan perché hanno molto lavorato con tutte le campane per portarla damos la grazia ok bene e ora è la ora del bag no non è il bagamo pas pas spero di dire la giusta pas pas un applauso al pas desde mexico grazie 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 mexico grazie verona grazie tocati tocati verona e mi cuore grazie 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 toccati tocati e verona nel cuore grazie grazie ancora al pas pas e continuiamo in questo viaggio della cultura ludica nel raccontare ovviamente altri popoli e altre culture seguimos in este viaggio hablando di altri paesi altre realtà realtà con la ulama di antebrazo ulama di antebrazo ulama di avambraccio in italiano grazie grazie verona qui staremos sempre che nos inviten grazie a te grazie a verona e verranno ogni volta che li inviteremo grazie bene ed ora sempre per restare nelle terre mexicane carretone de maiz carretone sempre de mexico carretone de maiz no lo vemos no han podido llegar aquí venga muy buenas tardes reciban ustedes los de verona y especialmente estamos muy agradecidos y reciban un cordial saludo de parte de todos los mexicanos muchas gracias grazie per il passaggio ringraziano tutti per la benvenuto e per i giorni passati insieme bene una cultura che di gioco è un gioco che è diffuso in tutto il mondo un juego che è cultura e un juego che è diffuso in todo il mondo lo conosciamo con nomi diversi lo conoscemos con nombres diferentes ma in mexico lo chiamano trompo pero en mexico es el trompo trompo Gerardo intanto chiediamo la persona che ha preso ha reso possibile tutto questo scusate di venire qui accompagnarci che Gregorio Ramos se può venire qui con noi pedimos a Gregorio di venire qui con nosotros un applauso Gregorio per la persona che ha conseguito che tutti mexicanos llegaron in Verona para hacer este tocati che poi magari faremo dire a lui dopo due parole anche così ci racconta il suo punto di vista di questo festival ed ora passiamo la musica son del corazón passiamo la musica son del corazón grazie a ustedes por invitarnos es una experiencia única y se los agradecemos mucho grazie grazie una experiencia unica un applauso volevo ringraziare il toccatì di Verona perché ci ha dato l'opportunità di far conoscere tra ieri e oggi il gioco del Beggemon a una platea di giocatori che non mi era mai capitato di incontrare nessun'altra fiera rassegna esibizione io avevo portato più di 100 spiegazioni di come si gioca Beggemon ieri le avevo finite quasi tutte oggi ci siamo arrangiati ma per il prossimo anno so come devo fare vi ringrazio molto ho conosciuto un sacco di gente in gamba la vostra organizzazione perfetta mi sono trovato benissimo per me era la prima volta e spero che ne seguiranno delle altre grazie infinito per la prima autoctonia signora muchas gracias grazie grazie per l'ospitalità e per per i giorni passati insieme grazie altro altro gioco sempre che troviamo dalle popolazioni inuit alla fine l'abbiamo visto anche prima in una forma diversa gioco del valero altro gioco sempre di origine molto dove sta di origine lejos sempre lui sempre lui due volte due volte sì sì ora 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 un'altra tradizione di palla una famiglia importante di giochi per il messico come per l'italia una famiglia molto importante di gioco per l'italia per il messico e anche per l'italia e anche per l'italia la pelota mixteca de ule e questo per il museo che tiene noi lo otorgiamo per essere presenti qui ringraziamo per l'ospitalità per aver dato questa vetrina al gioco della pelota mixteca foto foto y los demás y los demás y los demás Ok, allora non abbandoniamo il Messico, raccontiamo una storia femminile, raccontiamo qualcosa di solo femminile, un gioco, unicamente femminile, la Carrera di Arrivetta, della Tarahumara. Buongiorno, prima di ringrazio a Elas. Alla Federazione e alla Comunità Verona. Ringrazio la Federazione e la Comunità di Verona. Quando ci sono storie di questo tipo, storie di gioco, di giocatori, perché alla fine il Festival Tocati non racconta solo i giochi, ma racconta soprattutto come le comunità di gioco, i giocatori, riescono a portare avanti una tradizione ludica. Quando incontriamo questa tipologia di storia, quando i giocatori portano il gioco nella sua vita, il Festival riesce a creare una magia, e la magia è di tutte le persone che si incontrano su un tema molto semplice, molto chiaro e universale. E la magia è che tutte le persone che si incontrano solo un tema, un tema universale, che è il tema di stare insieme, di fare comunità, la tematica di stare insieme e di fare comunità, attraverso il modo di giocare, attraverso la modalità del gioco. Quindi, io adesso chiamo lo gioco della canna di maiz. Quindi, io voglio chiamare al gioco della canna di maiz. Questo è un presente di noi, prima di ringrazio per la invitazione, per tutte le facilità che ci hanno dato per venire qui, e contiamo sempre che stiamo qui, e ogni volta che ci invitano. Grazie per tutto. Con la val. Grazie, grazie a voi. Grazie per averci ospitato qui, e grazie a Paolo e all'associazione. Bene, allora un'altra comunità che ha portato tre giochi. Prego. Allora, o tra otros juegos? No, un'altra comunità che ha portato tre giochi, e non un gioco. No, un'altra comunità che ha portato tre giochi. Patolli, Pitarra, Tembiyumu. Uh! No, non siamo una comunità, siamo tre comunità, siamo tre estati, il stato di Veracruz, il stato di Querétaro e il stato di Michoacano. che abbiamo venito a comparte il nostro gioco. Quindi, Tocati, grazie a la comunità di Verona, grazie per tutta la sua hospitalità. in particolare, noi abbiamo avuto una recezione del juego maravigosa. abbiamo trovato che gli studenti sono molto sensibili e il gioco. E io credo che è per il lavoro che ha fatto Tocati durante tanti anni, in la promozione del gioco, e fare che la sua comunità sia sensibile al gioco, e stanno sperando ogni anno questo gioco. e moltissimas grazie, Verona, moltissimas grazie alla federazione per avernos traído qui e per conoscere una città tan hermosa e una gente tan meravigliosa. Tres estati hanno portato questi tre giochi, hanno sentito il pubblico molto vicino e molto pronto al tema del gioco e sensibile a quello che è il gioco e anche al rispetto del gioco e dei giocatori su tutta Verona. Grazie. Tre comunità, mi scuso io. Buonasera, Tocati. Buonasera, Italia. Buonasera, Verona. Queremos fare l'obsequio di una delle varianti di un gioco che oggi vediamo che è il mondiale. e è quello che in Querétaro e in México denominiamo la pitarra. E, bueno... Stava dicendo che vogliono omaggiare il presidente con il gioco della pitarra. e vogliamo lasciare questo esempio per il museo, precisamente, della associazione del gioco antico di Tocati di Verona. E lasciarlo per la associazione del gioco antico e il suo centro di documentazione sul gioco tradizionale. Grazie. Grazie. Un abrazo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. per averci portati qua e per aver offerto loro questo momento di condivisione con tutti voi. Grazie a tutti. Bene. Allora, siccome il festival ha esperienze anche che arrivano da altri posti del mondo, ma anche in Europa stessa, c'è anche modi diversi di raccontare come si può giocare oggi nelle città. Diferenti modalità di come si può giocare nella città, perché nel festival non ci sono solo i giocatori tradizionali, ma ci sono molte cose, molte tradizioni e nuovi giocatori. E quindi una tradizione contemporanea, una modalità di gioco che arriva dall'Austria. Una modalità contemporanea di gioco che arriva dall'Austria. Austria. Da Vienna. Play Vienna. Play Vienna. No sta. Play Vienna. Facciamo un applauso. Play Vienna. Facciamo un applauso. Aún se non sta. Sono già partiti per Vienna. Già hanno salito. E quindi le facciamo un applauso sicuro che arriverà. Allora, invece un'altra modalità contemporanea. Vediamo se sono arrivati. Otro juego della contemporaneità. Hanno la particolarità di arrampicarsi sui palazzi. Suben las paredes. Delle città. De los palazios, de las ciudades. Gli street boulder di Verona. Street boulder Verona. che può essere che non sta, perché ancora stanno subendo le paredes di San Giorgio. Sì, sono ancora sulla paredes di San Giorgio. Ok. Allora, velocemente, chiamiamo un'altra tradizione internazionale che troviamo in gran parte del mondo. Ma che, in questo caso, ce l'hanno raccontata per questi giorni la comunità dello Zancos. La comunità del Zancos. Ma che, in questo caso... Grazie a tutti. E torniamo, io penso, al tema forte di quest'anno, cioè la confronto culturale sul tema della palla, della sferistica, come la chiamano in Italia. Volvemo al confronto che ha sido la tematica base del festival di este anno, della pelota, sopra il tema della pelota. E quindi chiamiamo una comunità che arriva qui dalla regione Veneto. E quindi chiamiamo a una comunità che arriva da questa regione, il Veneto. Il Tovegna. Tovegna. Mancano ancora pochissimo. Falta pochissimo. All'hotla. 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 Ecco qui, un applauso. All'hotla. La panocchia volatora. 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 la ranocchia volatora. la panocchia volatora. la panocchia volatora. Quimbomba. la verità, graziemo la opportunità che ci hanno dato per partecipare in questo torneo internazionale la timbomba e la lipa il materiale è quasi lo stesso sono parecidi le regole possibilmente cambiano un tantissimo però poi l'aprendiamo rapido e ci dimostrano un buon encuentro, abbiamo due partite e abbiamo l'opportunità di arrivare alla fine, però ganniamo due, sì, due tre perdite, però poi ahi vamo, per la altra se si dà l'opportunità di stare speriamo dare la pelea a Mede quando meno, che oggi gano e grazie a Tocati grazie a la federazione grazie a nostro gobierno di mexico che ci supporto per poter stare aca e speriamo un dia volvere a regresare a Tocati, a Verona muchas grazie per tutto e c'è un obsequio qui della nostra timbomba che qui le chiamano lipa grazie ringraziano il gioco è stato molto facile apprendere il gioco perché è molto simile hanno vinto due partite purtroppo ne hanno perse tre però ritorneranno per la rivincita grazie bene allora chiamerei un'altra tradizione internazionale cioè che ci accompagna fin dagli esordi che è la comunità degli scacchi veronesi un'altra tradizione internazionale che viene con noi che è stato molto distante la comunità di Verona di scacchi che però non sta perché 220.000 metri quadrati sta molto lejos perché come il festival è così grande sono 220.000 metri quadrati della città e quindi sicuro che non hanno conseguito arrivare e allora chiamiamo un altro gioco però qui nostro italiano della tradizione i Pindoi e dovevamo chiamando quello della tradizione italiana il Pindoi che probabilmente anche lui no c'è 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 ah temevamo bene abbiamo l'onore e il piacere di rappresentare il più antico gioco del mondo un gioco con i sassi sassi contro sassi vecchio come la presenza dell'uomo sulla terra è la seconda volta che veniamo qua contiamo di esserci ancora ringraziamo la splendida organizzazione ci ha messo in un posto meraviglioso un giardino sotto gli alberi grazie mille di tutto grazie e buona fortuna a tutti al Tocati un gioco molto antico fatto con piedra e dano le grazie perché stavano in il centro della città come a voi e sperano di voler a Tocati bene allora adesso chiamiamo una modalità di gioco che guarda al cielo tutte le volte e che chiede al cielo di portare in alto il globo voladores de papel una nuova modalità di gioco una modalità che 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 al cielo globos voladores di papel globos voladores di papel a realizzare questo sogno, a realizzare questa posibilità con questo gioco tradizionale che è maggiore, che sono gli globi volatori di papel, grazie a la Comisione Nacional di Cultura Fisica e Deporti, a la Federazione Mexicana di Jogos Autòctonosi e, e quindi al Tocatì, sono molti, no? E quindi, traiamo anche alcuni obsequi, per la Città di Cio, unos globos, per che li possano volare, ayer abbiamo una gestione abbastanza buona, e, quando abbiamo volare 5 globos, e si vio fantastico. Quindi, le facciamo alcuni libri sui St. di México, per che conosciano la diversità che ha existo, e anche per che, Letizia, possa seguire parlando anche il spagnolo. Quindi, buono, moltissime grazie a tutti, a Zaira, a Papalo, a tutto il gruppo, siamo molto contenti, e siamo con il coraggio molto felice. Grazie a Messico, la Città del Messico, Aga, Tocatì, la Federazione, e tutti coloro che hanno sostenuto questo gioco per poterlo far arrivare a Tocatì. Come non so se avete potuto vedere, ieri sera sono stati innalzati 4 globos da Piazza Erbe, e uno di questi lo sta donando all'Associazione Giochi Antichi, e ringraziamo la comunità per il grande lavoro svolto. Grazie. Andiamo avanti in questa, ovviamente, chiamata delle comunità di gioco, e chiamerei un'altra tradizione esperistica italiana. oltre alla tradizione di pelota italiana, e la tradizione della Pantalera. La Pantalera. E Pantalera, la palla della famiglia della sferistica italiana, la nobile sfamiglia, e quindi un amico che Roberto Gatto fin dalle prime esordi ci ha accompagnato. La pelota che sta alla base del gioco di pelota in Italia, e questo gioco che ci ha accompagnato con la prima edizione del Festival, e doy la parola a Roberto Gatto. Sono contento di essere qui, ho conosciuto tantissimi amici messicani, abbiamo fatto anche una sfida, e torneremo volentieri il prossimo anno. Ha conosciuto a molti messicani, e hanno fatto anche un partito. Non vi abbandoniamo più. e sicuro che vanno a venire il prossimo anno. Chiediamo anche a Roberto di stare qui, perché intanto chiamiamo un altro gioco della tradizione messicana. Otro gioco della tradizione mexicana. Juego del Corozzo. Juego del Corozzo. Juego del Corozzo. E io. E Ninos. Juego del Corozzo. Ci sono qui. Tanto ho visto i soneros che sono arrivati. Grazie per averci invitato a Toccati. Forse questo è il segno che il gioco tradizionale ha ancora un futuro. Le nuove generazioni sono la speranza, però chiamerei a chiudere questo lungo racconto sul gioco tradizionale e sulle comunità. Siamo acabando con questo racconto di questi giorni ludici. Con l'Ulama di Cadera. C'è stato un episodio dell'Ulama di Cadera, mi sembra. Interessante, no? Ha passato algo con l'Ulama di Cadera, è abbastanza interessante. L'Ulama di Cadera in realtà è la seconda volta che ci viene a trovare. Come tradizione, questa è un'altra comunità e ringraziamo appunto perché è la famiglia della palla mexicana che abbiamo cercato di raccontare il più ampiamente e culturalmente possibile. Diamo le grazie perché questa è un'altra comunità e vi ringraziamo per venire. Ok, molti grazie. Primeramente alla comunità di Verona, ai organizzatori di Tocatì, alla federazione mexicana che ci ha dato l'opportunità di venire a presentare il nostro gioco. Molti grazie. Ringraziamo molto dell'invito e della permanenza qui e di come il pubblico ha risposto alla presenza su Piazza Erbe. Allora, chiamiamo... E ora abbiamo un gruppo musicale sempre del Messico, i suonatori... Acaba di toccare in Piazza Mexico... Lo suonero del Tese Chocan... Hanno suonato per giorni insieme agli altri musicisti, hanno reso viva Piazza Messico... Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A tutta la organizazione di Tocatì... A tutta la gente della Federazione Mexicana di Foggi... tradizionali per questa invitazione e per venire a conoscere questa città maravigliosa di Verona per poter stare con tantos amici per conoscere tanto, per apprendere tanto incluso noi anche di nostra cultura del juego tradizionale e della maniera in cui anche noi lo relazioniamo con la musica. De veras molto grazie, molto contenti molto grazie. Grazie per la possibilità di partecipare a questo evento e soprattutto anche attraverso questo evento di aver conosciuto il gioco e la tematica del gioco e il suo sviluppo nella città. Bene, e ora io ridò mi sembra, non vorrei essermi dimenticato qualcuno? Sì. Sì? Ah, ma allora c'è un'altra famiglia della pelota un'altra storia di gioco tradizionale che è già venuto a trovarci che è venuto a trovarci nel 2012 che è venuto a incontrarnos nel 2012 la pelota la pelota purè pechà che è venuto a trovarci Grazie a tutti per aver stato qui, grazie a tutti la organizazione del Festival Tocatì Internacional del Yoko Estrada, che è la seconda occasione che ci siamo presentati per la prima volta nel 2012, credo che fu anche una buona opportunità per mostrare qualcosa di México e abrere le porte per che questa nuova edizione dedicata exclusivamente a México. Grazie a tutti, che sempre ci hai ricevuto con una grande amabilità e, beh, molte grazie a nome di tutti i giudatori e della delegazione di Michoacano. Grazie per l'ospitalità, grazie per averci fatto tornare ancora una volta e grazie per questa edizione dedicata esclusivamente al Messico. È molto importante come il Festival trasmette la cultura e in particolare quest'anno ovviamente le tradizioni del Messico e grazie per la partecipazione. Bene, allora, scusate perché gli amici del trucco, direttamente dall'Abruzzo li chiamo, quindi una storia di carte. Ah, il trucco del vai, scusate, il trucco del vai. Truc del vai. Non ci sono. Non è stampa, però lo salutamos. Bene, e allora a questo punto io ridarei la parola per un ultimo saluto, restiamo qui tutti insieme. Diamo la parola per un ultimo saluto a Paolo Vigo, Presidente dell'Associazione Giochi Antichi. Allora io non posso fare altro che ringraziarvi ancora una volta. Il Festival, la dodicesima edizione del Festival si va a chiudere. Oltre a me ci do le grazie, questa dodicesima edizione si sta concluendo. Ci sono alcune cose nelle piazze, ma praticamente questo Festival fondato sulla cultura del Messico si va a chiudere. Aún hai alcune cose nelle plazas, però questo Festival dedicato alla scultura del Messico si sta concluendo. E non posso far altro che dare la parola al amico Gregorio, che tanto ha lavorato in questi anni per portare la propria cultura qui a Verona. E non posso dare le parole a Gregorio, che in questi anni tanto ha lavorato per portare la cultura mexicana qui a Verona. Grazie, Paolo. Quiero essere breve perché già stanno molto cansato, però non per lo meno, non per lo meno, entregarles tutto il agradecimento del Pueblo di Mèxico, de los jugadores, a l'Associazione Giochi Antichi, Paolo, Lorenza, Giuseppe, Letizia e tutti i collaboratori che a veces non si vedono, però che allà stanno e che facendo possibile che la ciudad di Verona sia parte di questo Festival. e a tutti voi, di vero, lo lleviamo nel corazon, credo che questo è un viaggio che nessuno va a olvidare. Ringrazio l'Associazione Giochi Antichi, tutti i membri per averci ospitato qui a Verona e aver portato e dato visibilità alla cultura mexicana e alla sua ricchezza, se posso aggiungere. Grazie, e vorrei ringrazio anche a tutti i giocatori che sono qui da mexico, che hanno fatto l'esforzo di loro per arrivare, e vorrei ringrazio anche a che venivano qui. Grazie a tutti i giocatori, vorrei anche invitare qui. A mi staff di organizazione e al mismo tempo dentro di loro a mi consello directivo, Dr. Mina, Vincenzo Armando Padilla, Salvador Díaz, Lauro, Salvador Mercado. Grazie a tutti i giocatori che ha aiutato Gregorio e la federazione. Grazie a tutti i giocatori e alla cultura mexicana verona. Quien mi falta per aca che passe? Tere e Anna, dove stanno? Tere e Anna. Per favore, anche i nostri sposti come parte del consello. Anna Claudia, dove andate? Anna Claudia Collado? No sta per aca? No sta per aca? No, per aca? Agradecerles, è il equipo che ha fatto possibile che tutti tutti stavano qui, facendo le ringrazio con voi, organizando. E anche i presidenti della asociazione che ci accompagnano. E che in questo momento, ci ringraziamo le ringrazio a tutti. per essere come parte della organizazione e come parte del Festival Tocatì. E speriamo che in altri eventi internazionali stanno con noi. Molte grazie a tutti, a tutti i gruppi culturali che stavano con noi. Molte grazie Paolo e grazie a tutti. Viva México! Viva! Grazie! Poglio solo aggiungire una cosa? Per quelli grazie a una cosa che ancora in verona e in Italia non è stato conosciuto. E che ci ha sempre ayudato in questi giorni a rieggare le pranzosiche. e non so se tutto il mondo ha potuto arrivare a vederlo, ma sono le mascheri che hanno riempito la piazza con diversi personaggi della tradizione mexicana, quindi vorrei dare le grazie a loro e che vengono un rato qui per dire qualcosa. Volevo ringraziare le maschere che hanno riempito la piazza in questi giorni e ci hanno aiutato a far conoscere questa tradizione a noi sconosciuta con i personaggi della tradizione messicana. Grazie. Un saluto a Náhuatl. Ti guarda che noi teniamo sottotitoli, che noi stiamo a parlare, come abbiamo chanato, lo abitato è che noi ho pensano che noi sono tenere in lunedì, ci siamo chanati a noi che noi hanno ottenere l'uvo e sei l'uvo e le cose sia stano vele, ma chi non c'è occuola il aげ l'amica a noi, ma chi non c'èva e la mese, noi c'è l'amica alle persone, ma chi non c'è pure la piazza, c'è un'ilice, ma chi non c'è la data, Grazie. 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 Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Le maschere sono qui e volevano ringraziare e soprattutto voglio ringraziare il primo intervento perché era in Nahuatl. Il secondo ovviamente era una traduzione e ovviamente quello che volevano trasmettere era come con il loro lavoro, con tutti i giorni lavorano per trasmettere e mantenere la loro lingua, la loro tradizione e le loro origini e con forza tramandarle alle generazioni future. E con forza anche in questo momento ce l'hanno raccontato e trasmesso a tutti noi. Grazie. Grazie. Molte grazie. Bene che dire. Che vivo a me. Liberi tutti. Uno. Dos. Tres. Che qui in te uno è la mia bomba, a la mia bomba, perdo mi prima, perdo i data. Sei che in te uno è la mia bomba, a la mia bomba, a la mia bomba perdo i data da da. Grazie a tutti.